L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza il disegno di legge della Giunta regionale sul sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente, la promozione dell'occupazione, oltre che all'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. Hanno votato a favore i consiglieri regionali di Partito Democratico, socialisti e riformisti, misto MDP, contrari quelli del Movimento 5 Stelle, astenuti Lega Nord, Misto, Umbria Next e Forza Italia. Il disegno di legge modifica il mercato del lavoro e introduce un nuovo modello organizzativo dei centri per l'impiego. Affronta il tema dell'accreditamento delle agenzie formative alzando l'asticella della qualità per l'accreditamento delle agenzie interinali, istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. La legge stabilisce un nuovo principio di premialità delle prestazioni andando a valutare quanto lavoro si produce con la formazione. Inoltre si punta al sostegno della responsabilità sociale dell'impresa, ad azioni per incentivare il rientro dei cervelli ed evitare la fuga dei nostri giovani più preparati. All'Agenzia è affidata la gestione dei centri per l'impiego e la messa online di tutti i servizi. Si rafforza il sistema dei centri per l'impiego completando la gestione del passaggio di competenze e personale dalle province all'Agenzia regionale. Essi potenziano i servizi di marketing verso le imprese e la preselezione del personale. Con l'Agenzia si intende promuovere il coordinamento e l'integrazione tra ASL, centri per l'impiego e servizi sociali dei comuni, un vantaggio soprattutto per i disabili e una base di partenza per il fascicolo elettronico del lavoratore. L'Agenzia non prevede ulteriori figure dirigenziali evitando ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli attuali. È previsto un percorso integrato con le politiche di sviluppo.